Aspetta, sta pigiando uova, pigiando uova Mamma mia, buonissima Stavamo dicendo che lui mi metteva, lui non lascia canone, non viene putta niente Perché prima era un ragazzo molto delitavo, ora mi sto responsabilizzando, quindi sto sbagliando mentalità Sta cambiando sesso, veramente Cioè, ma voi belle crede per queste persone Ragazzi, ragazzi, un momento di attenzione, la vita è un brim brim Però si deve sentire l'originale La vita è bella, com'è? Ciao Ciao Vigi Ma che sei arrivato? La vita è bella, com'è? Ascolta, ascolta, ascolta il brim originale Ripeto Il brim Questo ci deve essere fondamentale E' il professore E' il professore Ma è la casa di carte Vuoi entrare pure dentro, sta qua la Francesca ha spogliato Avete fatto la casa di carte voi, vero? Francesca ti puoi spogliare davanti alla telecamera Sento freddo, non c'ho le mutande Oh Oh Dai, lì Ma fatti fare una voglia di fare Adesso non fare il film qua, me la vedi Sì Ci penso Ce ne abbiamo le vizie Se voi... E qui... C'è Angelica? Quelle che si vede a bussare Si, si Ma che sarebbe? 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 C'è un'altra parte C'è un'altra parte C'è un'altra parte Non c'è ma so che Ma non c'è un foglio di magia Di chi? Di chi? Allora Ragazzo, eh scusa si devono coprire tutti i difetti dobbiamo togliere tutti i difetti dell'età si dà la macchia rossa per coprire la rosacea buona commedia a tutti Gino Gino dobbiamo fare un regoletto allora ad ogni squillo di telefono ad ogni squillo di citofono ad ogni squillo di porta una parola DRI senza live DRI DRI continuiamo ragazzi secco uno due DRI grande Angelica sta facendo DRI non c'è tutto senza DRI uno due DRI DRI chi va alla dedica speciale per questa DRI ma non lo capito è DRI 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 sapete come ci appiccicano? DRI uno DRI 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 DRI